Iniziamo allora a parlare di un altro filosofo, un altro fisico pluralista, che è Anasagora di Clazomene. Con Anasagora di Clazomene ci troviamo in quella importantissima epoca della storia dell'umanità, che è il V secolo a.C., e precisamente l'Atene del V secolo avanti Cristo, e l'Atene di Pericle, l'Atene di Socrate, l'Atene di Platone. E proprio con questi personaggi, cioè con Pericle, con Socrate, soprattutto con Platone, che entrerà in contatto Anasagora. Cercherò di concentrarmi su due aspetti nello specifico della vita di Anasagora, perché li ritengo molto importanti per capire l'epoca di cui stiamo parlando e attraverso l'epoca anche la sua filosofia. I due aspetti sono il processo che dovete subire Anasagora, e non fu l'unico, nel momento che pochi anni dopo toccò anche al sofista Protagora e poi anche a Socrate. Quindi il processo che subì Anasagora è la descrizione di Anasagora come uomo saggio che si dedica solo alla contemplazione del cosmo, della realtà naturale, della verità, e che non si interessa degli affari e delle attività della vita ordinaria. Anasagora infatti è, partiamo da questo punto, allora, è raccontato così, cioè messo in relazione con quell'ideale della vita contemplativa, della vita teoretica, della vita per la ricerca, dedita allo studio, dedita alla contemplazione, che si disinteressa delle cose di ogni giorno, della vita mondana, delle attività della polis, per dedicarsi unicamente alla formazione e alla trasformazione della propria interiorità, alla ricerca, ecco, della pace, della serenità dell'animo e attraverso la contemplazione, appunto, alla formazione di sé e alla tranquillità e alla serenità dell'animo. È un atteggiamento che sarà in seguito molto importante sia per quanto riguarda questo aspetto della vita contemplativa, della vita teoretica, sia per quanto riguarda l'etica di Aristotele, sia per quanto riguarda la concezione del saggio, del filosofo, sia del saggio presso distoici. Ora, Anasagora, ho detto, che è originario di Clazomene, quindi non proviene da Atene. Nasce intorno al 500 a.C., poi trasferirsi in Atene soltanto più tardi, anzi, sembra che proprio Anasagora sia stato colui che ha radicato la filosofia ad Atene, questa filosofia che abbiamo visto nascere nelle colonie dell'Asia minore, nelle colonie dell'Ionia dell'Asia minore, che poi trasmigra verso la Magna Grecia, quindi verso l'Italia del sud, con Pitagora a Crotone, con Parmenide e la sua scuola ad Elea, con Empedocle ad Agrigento. Ecco, la filosofia, infine, a Proda, arriva finalmente ad Atene e si radica ad Atene. Sembra proprio con Anasagora, quindi sembra che sia stato Anasagora a portare la filosofia della polis ateniese. In Atene Anasagora rimane circa una trentina d'anni, perché sappiamo che intorno al 433-432 viene esiliato, poi vedremo perché. Anasagora è descritto come un uomo straordinariamente colto. Addirittura ritorna, ancora una volta, quest'idea che avevamo già incontrato per altri filosofi di un Anasagora descritto come un saggio dotato di capacità profetiche. Anasagora dunque conosciuto come profeta, sembra essere stato famoso per aver predetto una caduta di pietre dal cielo. Vedremo anche quali saranno le connessioni, quali saranno le relazioni con altri fatti importanti della sua dottrina relative appunto a questa presenza di pietre nel cielo. Si tratta di qualcosa che ha a che fare anche con la condanna che riceverà Anasagora per impietà. È chiaro, come spesso dico, che non bisogna credere ciecamente a questi racconti. Anche quindi la letteratura su Anasagora contiene elementi storici, ma anche elementi, è costituita da elementi, insomma una grande quantità di motivi liberamente inventati. Dicevo che Anasagora non è l'unico a cui sono attribuite capacità profetiche, Anasagora non è l'unico che verrà processato, accusato per impietà ed esiliato, Anasagora non è neanche l'unico a cui sono state attribuite capacità profetiche. Il tema anzi della profezia era già stato attribuito a Talete, il quale avrebbe predetto una grande siccità, ma non solo, anche per quel che riguarda Peric, il capo politico Peric e anche altri, ecco gli fu attribuito questo tema della capacità di previsione naturale. Ad Anasagora quindi viene attribuita la caduta di pietre dal cielo, ma anche l'arrivo della pioggia, l'arrivo della pioggia ad Olimpia. Ad Anasagora l'arrivo della pioggia e le pietre a Talete la siccità. Quindi a uno l'assenza di pioggia a Talete fa sorridere, insomma questa attribuzione di assenza d'acqua proprio al pensatore che fa dell'acqua il suo principio, all'altro ad Anasagora l'abbondanza di pioggia. Questa della previsione naturale è dunque un tema che piace evidentemente e che viene giocato o in un senso o nell'altro, o come assenza di pioggia, o come presenza o abbondanza di pioggia. E così forse anche proprio per sottolineare ed enfatizzare ancora di più la grande capacità profetica di Anasagora, Anasagora viene chiamato, sembra venisse chiamato intelligenza o anche nus, intelligenza o nus, nous, o anche sembra che venisse chiamato verità. Ecco, le parole di Anasagora quindi come parole veritiere, come profezie probabilmente anche anche veritiere. Ancora una volta quindi siamo di fronte a un personaggio eccezionale, dotato di una certa aura di sacralità, assimilato alle parole usate per gli dèi, quindi verità, assimilato alle parole veritiere, come sono veritiere le parole degli dèi quando compaiono, ad esempio, l'abbiamo visto nel poema di Parmenide, no? A rivelare la verità al filosofo, all'iniziato. Anasagora ha detto intelligenza o verità. Sono diverse quindi le fonti che riportano come Anasagora non avesse mai riso né sorriso, e questa solenne dignità di Anasagora, tra l'altro questa sua avversione verso il riso e verso lo scherzo, va detto che è qualcosa che ancora una volta era già stata attribuita a chi era stata attribuita? Anche ad Eraclito, Eraclito l'oscuro, con il suo atteggiamento di rifiuto radicale verso ogni forma di leggerezza, di superficialità e di scherzo. Quindi vedete come la profezia, come l'idea di un personaggio sacro, intriso di sacralità, questa idea dell'avversione per ogni tipo di leggerezza, sono temi che sono già stati attribuiti, tornano, ritornano, Talete con la profezia, lo stesso Pericle, Eraclito con il rifiuto della superficialità. Si tratta di temi che vengono, evidentemente, rimbalzano da un filosofo, da un sapiente all'altro. Quindi diciamo che siamo di fronte ad un Anasagora che non ride e non sorride mai. Ma, come vi dicevo, ancora una volta, anche questo atteggiamento in altre testimonianze si rovesce invece nel suo totale opposto, perché infatti è raccontato che poco prima di morire, esiliato da Atene ai governatori della città in cui era andato in esilio, governatori che chiedono ad Anasagora che cosa voleva fosse fatto in suo onore per celebrarne, diciamo così, per celebrarne la vita, una volta morto, Anasagora rispose di concedere ogni anno ai ragazzi, ai bambini, un mese di vacanza nel giorno della sua morte. L'usanza continua, questa testimonianza è ancora in vigore. Questo ce lo racconta chi? Ce lo racconta il solito di oggi nell'Aerzio, nella sua vita e dei filosofi, che dunque riporta qualcosa di totalmente opposto rispetto a ciò che avevamo visto, cioè l'idea di un Anasagora che non si diverte mai. Dobbiamo quindi credere al fatto che quale ultimo desiderio volle che tutti gli anni nel mese della sua morte i bambini si divertissero con dei giochi, allora se crediamo, se diamo retta a questo, dobbiamo ammettere di essere di fronte invece ad un Anasagora che si diverte come, anzi, pensa che sia una cosa che possa celebrare degnamente la sua figura, e la sua stessa vita, quella di permettere ai bambini di giocare, di giocare con dei giochi nel suo, nel giorno, nel mese della sua morte e nel suo ricordo. Ecco, quindi, come si può vedere, la grande aleatorietà di queste testimonianze. Da una parte l'Anasagora che non ride e non sorride mai come eraclito, dall'altra l'Anasagora che dedica ai bambini nel mese della sua morte il suo pensiero, ecco, affinché i bimbi possano divertirsi con dei giochi. Non è soltanto, non è questa l'unica, forse, anzi, è la meno importante delle contraddizioni che possiamo vedere relative alla testimonianza che vorrebbero dipingere la personalità e la figura di Anasagora. Ad esempio, una ancora più, una contraddizione ancora più palese è quella secondo cui, come ho già detto, Anasagora si disinteresserebbe delle questioni quotidiane, delle questioni imminute dell'esistenza quotidiana, no? Nell'ambito, soprattutto nell'ambito collettivo e sociale, è colui che disdegna ogni attività pratica e dunque non si impegna all'interno della polis, con un qualche ruolo all'interno della polis, ma è dall'altra parte invece un'Anasagora che, come ho anche detto, è maestro di Pericle, è educatore politico, maestro di un grande statista ateniese, a cui insegna che cosa? La scienza politica, quindi consigliere attivo, ecco, nel distruire i politici. Allora, Anasagora disinteressato alle attività quotidiane della polis, alle attività, alle questioni della vita quotidiana, oppure Anasagora maestro e consigliere di politici e che politici e grandi politici. Anasagora ho totalmente disinteressato alla politica, chiuso nel suo mondo teoretico, nel suo mondo teorico contemplativo, oppure addirittura Anasagora come consigliere dei politici e maestro dei politici come Pericle. La letteratura relativa ad Anasagora, evidentemente, come anche ad altri di questi sapienti, ma lo vedremo anche per quel che riguarda il mistero della personalità di Socrate, ad esempio. Ecco, la letteratura relativa ad Anasagora, come anche ad altri di questi sapienti, dice tutto e il contrario di tutto. Senz'altro, però, una cosa è vera, Anasagora fu processato e capire i motivi del suo processo, del suo esilio, della sua condanna, è molto interessante, nella consapevolezza, tra l'altro, che, come ho già detto, egli non fu l'unico, in questo periodo, l'unico intellettuale, in questo periodo, a finire sotto processo. In quale periodo? Nel periodo che ha a che fare con l'inizio della guerra del Pelloponneso è la fine del V secolo, con gli ultimi trent'anni, insomma, del V secolo avanti Cristo. Ora però, prima di parlarvi del processo subito da Anasagora, vorrei insistere un po', dire ancora due parole sull'aspetto di cui ho già accennato nella personalità di Anasagora, per come almeno lo vediamo descritto nelle testimonianze. Quello che, quindi lungi dal vederlo quale consigliere politico e maestro dei politici, lo vede invece come colui che della realtà politica non si interessa in modo particolare e che, colui che è senz'altro indifferente alla vita mondana, alle cose pratiche, soprattutto ai possedimenti, alle proprietà, alle ricchezze e anche in parte alle istituzioni. Ci sono infatti racconte e testimonianze che descrivono Anasagora come l'uomo teoretico per eccellenza, ossia come colui che vive unicamente della vita contemplativa, vive unicamente una vita contemplativa, dedicandosi al pensiero, alla ricerca scientifica, ossia naturalistica, studiando i fenomeni della natura e in questo disinteressandosi completamente della polis. Vi leggo ad esempio un passo, cosa dice Diogene Laerzio nella sua vita dei filosofi relativamente ad Anasagora che si distinse per nobili natali e per ricchezza, si distinse per nobili natali e per ricchezza, ma anche per i grandi sentimenti, dato che cedette ai parenti l'intero patrimonio. Anasagora cedette ai parenti l'intero patrimonio, ossia si disinteressò completamente della proprietà, della proprietà privata. E continua Diogene Laerzio in questo modo, accusato, quindi viene fuori l'accusa, accusato da essi di non curarsene, di non curare quindi i campi, le tenute, le terre, quindi viene accusato Anasagora dai suoi parenti di non curare i campi, le tenute, le terre, replicò loro. Perché allora non ve ne occupate voi? Alla fine se ne trasse in disparte per darsi allo studio dei fenomeni naturali, senza partecipare alla vita politica. Alla fine se ne trasse in disparte per darsi allo studio e alla contemplazione, allo studio dei fenomeni naturali, senza occuparsi della vita politica. E ancora un'altra testimonianza, sempre Diogene Laerzio, a chi una volta gli obiettava, a chi una volta obiettava Adanasagora, della patria, della polis, della patria non ti importa nulla, zitto rispose e indicando il cielo soggiunse, della patria mi importa e come, della patria mi importa e come. E allora vediamo ritornare in questa risposta l'idea molto antica, già dei pitagorici, secondo cui la vera natura dell'anima non è la natura terrena, la dimensione terrena, quella rivolta al mondo di qua giù, ma l'idea che la vera patria, la vera patria dell'anima e dunque dell'uomo, di cui l'anima è l'essenza, sia il cielo, il cielo dove dimora la divinità. Adanasagora risponde della patria mi importa e come, ma indica con il dito verso il cielo, cioè verso dove si alza lo sguardo del sapiente, verso dove si alza lo sguardo del filosofo, sì a guardare i fenomeni celesti, sì a studiare in qualche modo il cielo nel senso e con significato della natura, ma è anche vero che dietro questa indicare il cielo come la vera patria dell'uomo c'è probabilmente questa idea per cui la vera essenza dell'uomo è l'anima e la vera patria dell'anima è il cielo, cioè il luogo della divinità, non il mondo di qua giù, ma il mondo di lassù, che dunque è tutto da contemplare. E perché insisto su questo aspetto di Anasagora come colui che sceglie la vita contemplativa? Perché in Anasagora c'è probabilmente quindi un anticipo, un'anticipazione dell'importanza della vita teoretica, l'importanza della vita teoretica e contemplativa che sarà centrale soprattutto nell'etica e nell'idea di felicità aristoteliche. Quindi questa supremazia, questa centralità della vita teoretica per il raggiungimento della vita contemplativa per il raggiungimento della felicità nell'uomo che è espresso in maniera, al suo massimo livello dall'etica aristotelica, è probabilmente già anticipato e conosciuto da Anasagora. Anasagora secondo cui la felicità, ecco, anche evidentemente, esattamente come in Aristotele, può essere trovata soltanto nella ricerca, nello studio, nella contemplazione e nel disinteresse rispetto alle questioni materiali e le questioni mondane. Quindi ecco questa idea, questa idea profondamente legata al nome, alla filosofia e all'etica di Aristotele, sarebbe già presente a questo punto in Anasagora. Lo stesso legame di felicità e contemplazione, felicità e ricerca, viene poi ripresa poco dopo Anasagora nella famosa Apologia di Socrate, dialogo di Platone, in cui a un Socrate ormai condannato a morte, Platone fa dire ai propri giudici che una vita senza ricerca, una vita senza contemplazione, una vita anche senza filosofia, senza studio e senza l'esercizio razionale del pensiero è una vita indegna di essere vissuta e quindi è un tema che ancora una volta ritorna, ritorna dopo Anasagora, il quale potrebbe già averlo anticipato. Una vita senza studio, una vita senza filosofia, una vita senza ricerca, una vita senza contemplazione, senza ricerca della verità, senza l'esercizio a questo punto anche del dubbio, senza l'esercizio della critica razionale e una vita indegna di essere vissuta, dice Socrate ai suoi giudici come ultima provocazione e poi Socrate che poi viene, che viene, diciamo, che prende la via del carcere e quindi della morte bevendo la cicuta. Ecco quindi per il suo valore di anticipazione di un tema che sarà molto presente poi più avanti dopo Anasagora, sia in Platone, Socrate e Platone, sia in Aristotele, ossia l'importanza della vita contemplativa, è importante sottolineare quindi come questo aspetto per Anasagora dell'uomo tutto dedito alla vera patria, cioè alla contemplazione del cielo, contemplazione da intendersi ovviamente come ricerca dei fenomeni naturali. E continuiamo allora su questo tema del cielo, su questo tema della ricerca dei fenomeni naturali, insistiamo allora con il cielo e pensiamo fino in fondo questa tematica. L'interesse per il cielo era infatti già stato chiamato in causa quando si è detto che Anasagora avrebbe predetto una caduta di pietre dal cielo, ma soprattutto questo aspetto del cielo entra in gioco se pensiamo che Anasagora fu accusato e fu esiliato per cose che ancora una volta riguardano proprio il cielo. Egli fu accusato infatti di impietà per avere sostenuto che il sole è una pietra infuocata o un metallo infuocato e dunque non sarebbe un dio. Il processo ad Anasagora ebbe luogo nel 433-432 a.C. fu costretto all'esilio, quindi Anasagora si diresse a Lampsaco, dove morì nel 428. Ora, come vedremo prossimamente, anche Socrate venne accusato di impietà. Socrate viene infatti accusato di non credere negli dei della città, di sostituire agli dei della città nuovi dei e anche di corrompere i giovani. Ma il primo capo d'accusa è quello per cui Socrate non crede negli dei in cui la città usa credere. Quindi Socrate e Anasagora furono accusati entrambi di impietà. Poi Socrate venne anche accusato, lo ripeto, di corrompere i giovani con le sue idee, evidentemente con le sue idee e sulle idee. Quindi venne anche accusato di non soltanto di essere empio per se stesso, ma di voler insegnare quindi anche ai giovani le impietà. Ora però va detto fin da subito che sia la condanna di Anasagora, sia la condanna di Socrate che non hanno niente a che fare realmente con le impietà e con il mancato rispetto per gli dei che la città riconosce come più propri. L'ambito della religione greca del resto ignora anche il concetto di ortodossia, ignora il concetto di una fede in verità dogmatiche e quindi ignorando il concetto di ortodossia e una fede in verità dogmatiche a cui bisogna credere e basta, ignora anche il suo contrario, cioè l'eresia. Il concetto di eresia prenderanno piede invece con i primi secoli dell'era cristiana, del cristianesimo. La religione greca, l'ambito religioso greco ignora sostanzialmente questo concetto di ortodossia perché ignora il concetto di una verità rivelata. I padri fondatori della religione greca in fin dei conti si trovano nelle narrazioni di Omero e di Esiodo, di due poeti. Questa narrazione non viene mai investita di un valore che ha a che fare con la rivelazione e non si appoggia, tra l'altro, a nessuna casta sacerdotale che abbia il compito di mantenere l'osservanza del credo, del dogma. La religione greca, l'ambito religioso greco piuttosto è, si svolge nell'ambito di una serie di celebrazioni, diritto privato, anche anzi soprattutto diritto pubblico, nei quali la città si ritrova, diciamo così, come comunità unita, come comunità coesa. Ecco, per questo motivo anche la cultura greca tende sostanzialmente, era già capitato ad esempio anche con un certo senofane, la cultura greca tende ad accogliere abbastanza favorevolmente l'elaborazione di un pensiero razionale e critico relativo alla divinità, sulla natura del divino. Quindi nell'ambito della cultura greca non esiste questo chiudersi a difesa di un dogma, anzi viene accettato abbastanza tranquillamente e volentieri anche un atteggiamento critico, se vogliamo anche scettico o comunque di discussione, di discussione razionale e critica nei confronti della divinità. Ora non è detto però che questi termini, questo rapporto tra filosofia e religione poi sembra che a un certo punto dovettero cambiare, probabilmente per un certo periodo sono stati anche diversi da come li ho appena descritti. Quando? Quando in situazioni di crisi, come quella ad esempio attraversata da Atene nel V secolo, nella seconda metà del V secolo, vi è stato probabilmente un inasprimento dell'atteggiamento nei confronti di coloro che si permettevano di, di coloro che discutevano di religione in termini critici e razionali. Ma anche qui, nonostante questo inasprimento, non dobbiamo pensare che questo atteggiamento diciamo così un po' più rigido abbia portato realmente a condanne ad esili o a condanne o a condanne a morte. Atteggiamento quindi più rigido nei confronti della critica religiosa. Sì, sembra che verso il 430 a.C., secondo una testimonianza di Plutarco nella sua vita di Pericle, l'indovino e interprete di Oracoli di Opite, avrebbe fatto approvare un decreto, una legge, in cui istituiva il perseguimento, ecco, in giudizio, di coloro che non tengono in conto le cose che hanno a che fare con gli dèi, di coloro che non tengono in conto le cose che hanno a che fare con gli dèi, o insegnano teorie su ciò che sta nel cielo. Ecco, sarebbe stata così configurata anche la penalizzazione di espressioni, ecco, di ateismo, almeno dal punto di vista teorico, come quelle che sono implicite anche nelle dottrine di alcuni naturalisti come Anassagora. Plutarco però, e qui siamo alla chiave di interpretazione che sembra la più accreditata, osserva che questo decreto aveva in realtà lo scopo, uno scopo tutto politico, uno scopo evidentemente politico di colpire Pericle, di colpire Pericle attraverso gli intellettuali che appartenevano alla sua cerchia e perciò sarebbe stato portato in giudizio Anassagora in quanto intellettuale che apparteneva alla cerchia di Pericle. Quindi il vero significato di questo decreto di Opite, se c'è stato, non era tanto quello di punire direttamente espressioni di ateismo o di empietà, di punire l'empietà, ma aveva un significato tutto politico di mettere in difficoltà Pericle attraverso quegli intellettuali naturalisti, filosofi, che come Anassagora potevano, le cui implicano una condanna di empietà. Ma il vero significato del decreto di Diopite era quello evidentemente politico di accusare Pericle attraverso quegli intellettuali di cui Pericle si circondava. Pensiamo quindi al nocciolo del problema, cioè chi si voleva colpire nel colpire Anassagora? Lo ripeto, si voleva colpire sicuramente Pericle, o meglio l'uomo politico Pericle. L'opposizione politica Pericle, capeggiata da un certo Cleone, colpisce infatti Anassagora, amico di Pericle. Anassagora, maestro di Pericle. Pericle il quale evidentemente aveva dei nemici. Ma questi nemici per accusare Pericle, cioè per farlo cadere politicamente, colpirono gli intellettuali di cui Pericle si circondava, portandoli in giudizio con l'accusa di non credere negli dèi, con l'accusa di non credere negli dèi della città, o di sostenere tesi blasfeme, empie e offensive verso gli dèi, come quella di Anassagora che afferma che il sole non è un dio ma una pietra infuocata. Quella che viene chiamata blasfemia, quindi, non è reale blasfemia, è solamente l'atteggiamento razionalistico, critico del filosofo naturale Anassagora, il quale, seguendo appunto la ragione da buon filosofo, si allontana dalle credenze tradizionali della città, di una città che è profondamente in crisi, tra l'altro, ossia l'Atene della guerra del Peloponneso, un'Atene che oltre a una guerra sanguinosa con Sparta, che durerà per trent'anni e che è appena iniziata, ha appena conosciuto l'Atene una pestilenza gravissima che l'ha profondamente prostrato, una pestilenza nella quale tra l'altro morirà lo stesso Pericle. Quindi non si tratta né di un'accusa in cui è reale il capo di accusa, cioè l'impietà, ma è un attacco politico a Pericle, attaccando però quegli intellettuali i quali non erano tanto blasfemi, quanto assumevano un atteggiamento razionalistico, dubbioso, critico, di discussione ecocritica nei confronti della divinità, le cui tesi potevano avere dei risvolti, se vogliamo, diciamo così, non molto rispettosi del divino, della divinità, come quelle appunto di Anasagora che, volgendo gli occhi al cielo, riteneva che gli astri, i pianeti, non fossero degli dei, ma semplicemente delle pietre. Ora questa visione materialistica, in fin dei conti, razionalistica, viene detta blasfema, Empia e Anasagora viene accusato e processato, proprio quel maestro, guardate un po', quel maestro di Pericle, che però era l'obiettivo politico degli accusatori. Anasagora, l'ho detto e lo ripeto, non sarà il solo intellettuale in questo periodo a subire questa sorte e soprattutto ad allontanarsi con il suo atteggiamento razionalistico, scientifico, filosofico dalle credenze di questa città, Atene, che dobbiamo immaginare, lo ripeto, profondamente in crisi, divisa, lacerata, sconfortata e dunque per reazione abbarbicata ancora di più alle vecchie credenze, abbarbicate alle vecchie credenze come punti di riferimento, punti di riferimento da proteggere dalle minacce di chi? Dalle minacce di un atteggiamento filosofico che mette in dubbio ogni spiegazione sovrannaturale della realtà. E allora ecco che questi filosofi che si allontanano dalla credenza superstiziosa, anche oscurantista, nel soprannaturale, questi filosofi che esercitano la critica, questi filosofi che seguono le vie della ragione, della razionalità, mettono in discussione le spiegazioni irrazionali e soprannaturali, ecco che questi filosofi sono indicati come color da una città estremamente in crisi, spaventata, lacerata, confusa e divisa, sono accusati di essere nemici degli dei, nemici di quegli dei che in questo momento così difficile potrebbero e dovrebbero proteggere la città. Quindi l'atteggiamento razionalistico, l'atteggiamento scientifico, l'atteggiamento oggettivo che considera le vecchie credenze e le consuetudini come oscurantismo e come superstizione, ecco questo atteggiamento razionalistico e scientifico che vede nelle vecchie credenze, superstizione e oscurantismo non piace alla maggioranza degli atenesi. E allora Anasagora pericoloso, Anasagora blasfemo, Anasagora intellettuale amico di Pericle che minaccia le antiche certezze di una città in crisi, questo Anasagora viene processato ed esiliato. Ecco ma vi dicevo delle tante persecuzioni giudiziarie per impietà, per blasfemia di cui c'è giunta l'eco dall'antichità e che cadono proprio in questo periodo, cioè nel periodo della seconda metà del quinto secolo. Sì, perché nel giro di trent'anni Atene conoscerà tutta una serie di processi per ateismo, per impietà. Oltre ad Anasagora vi ho detto di Socrate, ma anche Fidia, anche lo scultore Fidia e il sofista Protagora, anch'essi tra l'altro, Fidia e Protagora e Socrate nella stessa cerchia di Pericle e poi anche un certo Diagora di Melo. Comunque Anasagora, Socrate, Fidia, Protagora tutti nella cerchia di Pericle, ma lo ripeto quindi non si tratta di processi realmente fondati su motivazioni e ragioni religiose. Il vero motivo di questi processi, anche quello di Socrate, anche quello del sofista Protagora, anche quello di Anasagora, rientrano nel campo politico, non in quello della fede. Con il filosofo Anasagora si voleva prendere di mira l'uomo politico Pericle. Il motivo religioso era solo un pretesto, un protesto per colpire il nemico politico, il quale era Pericle in una posizione difficilmente attaccabile. Pericle era infatti profondamente stimato dagli Atenesi, per lunghissimo tempo è stato rieletto. Pericle, che quindi era difficilmente, diciamo così, era attaccabile, profondamente consolidato al potere, anche se fu Pericle proprio a trascinare gli Atenesi nella guerra del Peloponneso. E questi processi per impietà riguardavano quindi i filosofi. I filosofi i quali avevano la colpa di fare che cosa? Di mettere in dubbio, di mostrare un atteggiamento razionalistico, fondato quindi su uno sguardo guidato dalla ragione nel campo della spiegazione della realtà. Il filosofo, l'abbiamo visto fin dall'inizio, segue processi logici, razionali nella spiegazione dei fenomeni naturali e della realtà. Per cui i filosofi, in ciò che gli altri Atenesi vedevano come l'espressione, la manifestazione della divinità, questi filosofi vedevano semplicemente dei fenomeni naturali, come accadeva per esempio con gli astri, secondo Anasagora. Per Anasagora, infatti, i corpi celesti non erano divinità, ma pietre. Il sole non è una divinità, ma una pietra infuocata. Ecco, proprio questa modalità di indagine, questo modo di ragionare, questo modo di condursi in maniera scettica, dubitativa, razionale, viene accusato di ateismo e di impietà. E in questa stessa accusa, ricollegando il politico Pericle al filosofo, Anasagora, e processando il filosofo si vuole colpire proprio l'uomo politico che è vicino al filosofo, o meglio, a quel filosofo così ateo e così blasfemo. Anasagora paga per la sua vicinanza a Pericle, è uno schema che vedremo in funzione anche per Socrate, che sarà accusato di essere stato maestra di Crizia e di Carmide, membri del famigerato governo oligarchico dei Trenta Tiranni, detto dei Trenta Tiranni, nonché di Alcibiade, di parte politica democratica, ma aristocratico per nascita e per i suoi comportamenti eccessivi e nonché, tra l'altro, sospetto di blasfemia, accusato di tradimento al Cibia e perennemente accusato anche di volersi fare tiranno. Ed ecco allora, per concludere questa parte dedicata alla vita, alle vicende, alla personalità di Anasagora, questo filosofo, descritto come uomo teoretico, che lascia da parte le ricchezze, gli averi, i possedimenti, che si dà solo allo studio dei fenomeni naturali e della contemplazione, non alla vita politica, l'intellettuale che indica come vera patria non la polis ma il cielo e che afferma di vivere unicamente per contemplare il sole, la luna, il cielo e le stelle. Ecco che questo filosofo, descritto come, potremmo dire, impolitico, viene invece condannato all'esilio, qualcuno dice addirittura a morte, per motivi che sono strettamente politici, perché amico e maestro dell'uomo politico che in quel momento una certa parte degli attenesi, guidata da Cleone, voleva abbattere. Anasagora quindi l'erudito che disdegna tutto ciò che è terreno per dedicarsi invece alla contemplazione, alla contemplazione delle cose eterne, dell'eternità, per studiare le leggi che regolano i fenomeni, i fenomeni celesti, i fenomeni naturali, prende la via di Lamsako per non tornare mai più ad Atene e per morire proprio a Lamsako dedicando, lo ripeto, l'ultima sua riflessione e l'ultimo suo pensiero ai giochi dei bambini. E forse questo è proprio il pensiero più bello che si possa fare nell'ultimo istante della propria vita, cioè pensare ai giochi dei bambini. Veniamo dunque alla parte relativa alla dottrina filosofica di Anasagora. Anasagora che dobbiamo classificare come nel numero dei fisici pluralisti, fisici pluralisti che intendono fornire una una filosofia, intendono elaborare una filosofia della natura, che tenga conto delle critiche rivolte a Parmenide in merito alla scuola eleatica, in merito alla mancata spiegazione del fenomeno del divenire e dunque innanzitutto di quella radicale fenomeno del divenire che è costituito dai fenomeni del nascere e del morire. I fisici pluralisti sono pluralisti, proprio perché ritengono che non ci sia un unico elemento che spiega l'origine di tutte le cose, un unico elemento che si trasforma e che cambia, come poteva essere invece l'archè per gli ionici. Ma vi sono tante arcai, cioè tanti elementi, quindi pluralismo, i quali aggregandosi e disaggregandosi spiegano la nascita, la trasformazione e il perire degli enti. Elementi, elementi plurimi, elementi molteplici che però, pur aggregandosi e disaggregandosi, mantengono le loro caratteristiche di immutabilità, le caratteristiche di immutabilità che abbiamo visto nell'essere Parmenideo. Nasce quindi qui una distinzione tra gli elementi, gli elementi originari, l'abbiamo visto anche in Empedocle, che sono immutabili e i composti e gli aggregati degli elementi, i quali invece composti e aggregati che invece mutano, nascono, si trasformano, periscono. Gli elementi sono immutabili, ma numerosi, pluralismo, quindi gli elementi originari che si aggregano sono molti, molteplici e immutabili. Questi poi unendosi e disunendosi danno origine a dei composti e questi composti costituiscono la realtà. Questi composti che costituiscono la realtà, a differenza degli elementi, invece mutano, divengono, cambiano, si trasformano. Gli elementi quindi sono immutabili, ma i composti invece divengono. E si può affermare che quelli che ho chiamato elementi, cioè che i principi della realtà sono semplici, ecco, si può affermare che, proprio perché immutabili, siano gli eredi dell'essere Parmenideo, di cui riprendono proprio il fatto di essere ingenerati e incorruttibili, cioè di, e quindi di essere eterni, di non essere mai nati, sono ingenerati e quindi di non poter mai perire e non possono nemmeno trasformarsi, sono incorruttibili. Quindi ingenerati, incorruttibili, eterni e poi anche immutabili, quindi inalterabili. Ecco, questi elementi non passano dal caldo al freddo, dal secco all'umido e avanti così. Immutabili quindi intrasformabili, no? Quindi diversamente anche dall'archè degli ionici che poi si trasformava in tutte le cose che sono, in tutti gli elementi. Questi elementi, questi principi primi, plurimi, eterni, ingenerati, incorruttibili, sono immutabili e intrasformabili. E questi sono caratteristiche tipiche dell'essere Parmenideo. Che cos'è che invece non hanno di di Parmenideo? È proprio il fatto di non essere unici, non hanno l'unicità. L'essere di Parmenide è rigorosamente unico, mentre gli elementi sono molteplici. Dopodiché va anche detto che questi elementi, per i fisici pluralisti, sono elementi fisici, quindi appartengono alla realtà naturale, mentre l'essere Parmenideo, abbiamo visto, appartiene di più alla sfera metafisica, quindi gli elementi dei fisici pluralisti sono elementi corporei, quello che l'essere Parmenideo non era. Però possiamo dire che possono essere un essere Parmenideo corporizzato, fisicizzato, calato nella realtà, di cui conservano l'aspetto di mutabilità, ingenerabilità, eternità, incorruttibilità, ma lo rappresentano identificandosi in elementi corporei e naturali. Ecco là, la soluzione offerta dalla dottrina di Diana Sagora vuole in ogni caso risolvere, rispondere a quello che è stato fin dall'inizio la domanda della filosofia, cioè da dove origine tutto ciò che esiste e come fa tutto ciò che esiste a derivare da questo principio. Avevo visto che i fisici, i monisti, gli ionici, a partire dalla scuola di Mileto, avevano dato per certo che il principio della realtà fosse uno, fosse unico, l'archè, e da questo archè varialmente interpretato, poi derivavano in modo piuttosto misterioso però tutte le cose. Dall'archè, l'archè si trasformava, l'archè unico si trasformava in tutto il resto. Empedocle poi invece aveva proposto le quattro radici, ma secondo Anasagora, la soluzione delle quattro radici finivano comunque per riproporre lo stesso problema incontrato dai monisti, cioè come dall'archè, come da un principio o da pochi principi derivassero tutte le cose che sono da quattro radici, infatti deriverebbe comunque tutto ciò che esiste, esattamente come dall'archè deriverebbe tutto ciò che esiste. E quindi questo problema di derivare da un principio o da pochi principi per trasformazione tutto ciò che esiste è un problema reale e avviene per ogni soluzione in cui il numero degli elementi, degli archè o degli arcai o delle radici, risulti essere inferiore rispetto alle cose esistenti in natura. Insomma, si finirebbe pur sempre per ricadere nello stesso problema, nello stesso contraddizione per cui il fuoco a un certo punto diventerebbe acqua e la pietra diventerebbe qualcosa di diverso della pietra o non pietra e si ripeterebbe pur sempre questo passaggio, ecco questa trasformazione, non soltanto questa trasformazione delle cose dell'archè in tutto ciò che è diverso dall'archè, ma questa trasformazione delle cose da essere a non essere, da pietra a ciò che non è pietra, da fuoco a ciò che non è fuoco. Quindi la soluzione proposta dai monisti e la soluzione proposta da Empedocle con questo unico archè per i monisti o con queste quattro radici per Empedocle non spiega come sia possibile la trasformazione, la derivazione di tutte le cose da un unico archè o da pochi principi e soprattutto cade nella contraddizione di spiegare la derivazione di tutte le cose dall'archè come una trasformazione di questo archè in qualcosa di diverso, in qualcosa che non è più quello archè e quindi nuovamente questa mescolanza di essere e non essere. Allora Anasagora propone la soluzione per cui le radici o i principi a questo punto devono essere per forza infiniti, infinite come sono infiniti gli enti, come sono infinite le cose. Queste radici o questi principi infiniti Anasagora li chiama semi, quindi la sua teoria prevede che gli elementi in base della realtà, quelli che si aggregano e si disuniscono per formare le cose, per far nascere le cose e poi disunendosi, costituiscono la dissoluzione degli enti, ecco questi principi della realtà sono appunto i semi. Questi semi sono infiniti, sono infiniti a livello qualitativo, sono qualitativamente infiniti, cioè c'è una differenziazione qualitativa tra i semi, che sono infiniti, quindi non si tratta più soltanto di quattro elementi. I semi comprendono, questo vuol dire una differenziazione qualitativa, i semi comprendono i materiali, la sostanza, diciamo così, di tutte le cose, comprendono tutte le possibili sostanze, tutti i possibili materiali nella natura, tutti i tipi di pietre, tutti i tipi di metallo, tutti i tipi di liquido, tutti i tipi di legno, tutti i tipi di solidi, di liquido, ogni tipo di fuoco, tutto. Questi semi sono infiniti quantitativamente, perché tra l'altro sono divisibili all'infinito, quindi la materia per anasagora è divisibile infinitamente. Ora, questi semi che hanno a che fare con, che sono qualitativamente diversi l'uno dall'altro, nel senso che sono semi di materie, di sostanze diverse, semi di legno, di liquido, di tutti i materiali, di ogni cosa, di cose diverse, sono infiniti, quindi qualitativamente, sono infiniti quantitativamente, perché per anasagora la materia è appunto divisibile infinitamente. Questi semi di anasagora vengono poi chiamati da Aristotele omeomerie, cioè parti similari. Secondo anasagora poi tutto è in tutto, cioè tutto è in tutto. Se io prendo una parte di materia, ecco che in quella parte di materia, qualsiasi, lì dentro vi sono i semi di tutti i tipi di materia, cioè i semi di tutti i tipi di cose esistenti, per cui anche nella più piccola parte di materia sono presenti tutti i semi, quindi anche in un pezzo microscopico di materia, lì dentro, sono presenti i semi di tutte le cose, per cui dice anasagora, afferma anasagora, tutto è in tutto, ogni cosa, in ogni materia, ci sono i semi di ogni materia. La dottrina di anasagora può sembrare, se vogliamo, astrusa e assurda o inspiegabile, ma nasce invece per spiegare un problema vero. Anasagora infatti si chiedeva come è possibile che da una materia si possa generare un'altra materia. Il problema che si pone anasagora, a cui tenta di rispondere, è un problema che è, diciamo così, all'incrocio tra la filosofia e la biologia, cioè come è possibile che da una materia si genere un'altra materia. Come fa una materia dunque a trasformarsi in un'altra materia? Ecco, prima di rispondere a questa domanda devo ritornare a sottolineare questa affermazione di anasagora, per cui tutto è in tutto, cioè in ogni pezzo di materia ci sono i semi di tutti gli enti esistenti, di tutti i materiali esistenti. Sì, va bene, allora c'è un altro interrogativo che dobbiamo porci, quindi innanzitutto, cioè se tutto è in tutto, quindi i semi di tutte le cose sono presenti in tutte le cose. Come fa un determinato ente, una determinata sostanza, una determinata cosa, una determinata pietra ad essere una pietra? Come fa ad essere una cosa quella determinato tipo di cosa? Come fa la pietra ad essere pietra? Come fa il pane ad essere pane? Come fa la pianta ad essere pianta? Ecco, questo avviene, una cosa avviene, si determina, una cosa quindi prende una sua determinazione, una sua identità precisa e definita, la pietra pietra, il pane pane, il sangue sangue, pianta pianta, quando in una materia che, l'ho detto, contiene tutti i tipi di semi, prevale in quella materia un certo tipo di seme, prevale una certa qualità di semi, i semi della pietra nella pietra, i semi del pane nel pane, i semi dell'oro nell'oro, ecco, e quindi quella cosa in cui prevale un determinato tipo di seme, quella sarà pietra oppure pane, a seconda della qualità del tipo di seme che prevale. Torno quindi allora alla domanda relativa al come fa una materia a trasformarsi in un'altra materia. Ipotizzando, ad esempio, come in Empedocle che gli elementi siano solamente quattro, come si fa a spiegare che dall'elemento, come si spiega che dall'elemento terra nascano tutti i tipi di solidi e così dall'acqua tutti i tipi di liquidi? Se gli elementi sono solo quattro, come fanno nascere tutti i tipi di materiali esistenti? Come è possibile che l'infinita quantità delle cose esistenti possa scaturire da quattro elementi? E inoltre, come è possibile che una pianta diventi poi terra, che un rifiuto diventi concime, che mangiando pane crescano le unghie e i capelli? Perché se diamo a una pianta dell'acqua questa cresce? Quindi come fa una materia a trasformarsi in un'altra materia? Perché l'acqua determina la crescita della pianta? Perché dando acqua a una pianta questa acqua si trasforma in qualche modo in tronco, foglie, fiori? Perché? Mi rifaccio allora alla spiegazione precedente del fatto che tutto è in tutto, perché evidentemente in Janasagora dando acqua a una pianta, in quell'acqua oltre ai semi dell'acqua ci sono anche i semi della pianta. Perché il pane si trasforma in ossa, sangue, carne, unghie, capelli? Perché evidentemente nel pane ci sono anche i semi delle unghie, dei capelli, del sangue, della carne e delle ossa. Questo avviene quindi anche per il corpo, per il corpo e per l'alimentazione. Il nostro corpo cresce con l'alimentazione perché all'interno delle cose che mangiamo ci sono quantità di semi, di tessuti umani e di tessuti organici, assieme ai semi di tutte le altre cose. Allora come fa la materia a trasformarsi in un'altra materia, in altra materia? Perché tutto è in tutto e dunque nel pane, facciamo ancora l'esempio del pane, del corpo umano, nel cibo che mangiamo, nell'alimentazione che assumiamo, organi e tessuti crescono perché dentro quell'alimentazione evidentemente ci sono i semi di tutte le cose e anche dei tessuti e degli organi e degli organi corporei. Ecco, se non fosse così Anasagor ritiene che qualsiasi tipo di cambiamento sarebbe invece un passare da essere a non essere e quindi il pane si dovrebbe trasformare in corpo, l'acqua in pianta, il fuoco in pietra eccetera eccetera eccetera. No, invece non è un passaggio, una trasformazione da essere a non essere perché in quell'acqua che alimenta la pianta e in quell'alimentazione che alimenta il corpo ci sono i semi della pianta e i semi del corpo, per cui non c'è un passaggio da acqua a pianta o da pane a tessuti e organi, ma in quel pane ci sono gli stessi semi dell'essere corporeo che poi permetteranno la crescita del corpo. Secondo Anasagor, l'abbiamo già detto, i semi sono eterni, quindi esistono da sempre, esistono da sempre ma erano mescolati alla rinfusa, senza ordine inizialmente. Poi a un certo punto interviene un agente esterno chiamato nus o intelligenza o pensiero che interviene come una divinità, come una forza una forza che è ordinatrice, non creatrice, che interviene soltanto all'inizio del processo di costruzione del cosmo. Il nus provoca una specie di turbine con il quale muove, smuove i semi, li separa per poi riaggregarli, ma per poi riaggregarli in modo razionale, cioè tale da formare il nostro mondo, secondo una giusta proporzione, secondo un giusto ordine, ossia caratterizzato dalle cose in cui vi è predominanza di un certo tipo di semi e questa predominanza poi costituisce la determinazione della cosa, per come la cosa è. Assieme ai semi di tutte le cose, anche gli astri del cielo sono fatti dai semi di ogni cosa, ma sono sfere infuocate, sparate nel cielo. Una volta compiuta a questa azione il nus non interviene più. Ora Anasagora spiegò quindi l'ordine razionale, l'ordine del mondo, del cosmo, ammettendo che le cose siano state ordinate, siano state separate, poi ordinate razionalmente rispetto alla mescolanza caotica in cui si trovavano, ad opera di un movimento prodotto prodotto da un intelletto, prodotto da un intelletto superiore. Un intelletto superiore è concepito tra l'altro come trascendente, cioè non mescolato alle cose sensibili. Questo è stato detto è il modo in cui più il pensiero greco è andato vicino, in questa fase almeno della sua epoca, a immaginare il modello non di una creazione del mondo, ma di un ordinamento del mondo, a opera di un'intelligenza di natura sicuramente divina, che non è mescolata alle cose sensibili, che sta al di sopra, è trascendente rispetto alle cose sensibili, la cui essenza non possiamo sicuramente dire essere di tipo spirituale, ma le cui caratteristiche trascendenti, le cui caratteristiche tra l'altro di intelligenza, di pensiero e di capacità di mettere ordine, sono in ogni caso da attribuire a una qualche forza che non si spiega, non si identifica immediatamente, unicamente con qualcosa di materiale. E con quest'ultima considerazione relativa al NUS, all'intelligenza in ordinatrice di Anasagora, concludo quindi le mie lezioni, queste mie lezioni su Anasagora, e vi do appuntamento al prossimo video.